Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola E alla sua famiglia Il presidente Viola infatti Ha ribadito lui ai microfoni di Viola Channel E' sempre stato molto vicino Alla primavera della Fiorentina Niente da fare invece Per il difensore Sar Svincolatosi a parametro zero dal Nizza Che si accaserà al Chelsea di Lampard Per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Radio Firenze